Musica 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 Altro c***o 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 Grazie a tutti non vedete che non è il professore non lo vedete che è un povero handicappato venga caro venga la porta al suo reparto venga venga caro adesso venga in camera ma guardi che lavoreremo bene eh sì ragazzi tanta musica nuova soprattutto tanta musica dalle canzzi le orecchie si parte ma che fa nada allora eccolo il PBM3 di oggi Massimo di Livorno con i suoi 30 secondi per l'appello vai Massimo Livorno ci regala dei fenomeni e questo è uno di quelli nostro Massimo va bene quindi PBM3 c'è Massimo PBM2 come ha ricordato Pizza c'è il disco zarro come ogni venerdì ce lo presenterò Mitch e Ilenia al voto PBM1 il Pink Floyd PBM2 c'è il disco zarro 2,41,15,105 adesso dai quelli quelli è una scorsa che non ha e questo ci vuol dire esatto 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti